Sarà inaugurata sabato 5 novembre alle 18 in Galleria Eribertoia a Pordenone la mostra Elio Terwitt, il mio sguardo sul mondo. L'esposizione riunisce un mix di fotografie celebri e di altre inedite selezionate dallo stesso autore e sarà presentata per la prima volta in Italia con questo format. Si tratta di una quarantina di scatti che sapranno commuovere, divertire, emozionare e far riflettere i visitatori. A volerla sono stati il Comune di Pordenone, il Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia e Contrasto. Un maestro internazionale della fotografia per una mostra originale, originale perché è un mix tra immagini celebri e iconiche e immagini inedite che vengono esposte per la prima volta in Italia. Questo fa di Pordenone ancora una volta un centro culturale di primordine non solo nel Triveneto ma direi in tutta Italia e non solo. C'è da aggiungere anche che assieme a questa mostra ci sono alcune novità perché l'abbiamo collegata a un concorso fotografico, a un pacchetto di visite guidate, a un concerto e anche una grande novità per Pordenone, il biglietto unico anche con il Palazzo del Fumetto per cui nei prossimi giorni sarà possibile visitare sia Erwitt, cioè un gigante della fotografia, sia Eisner, un gigante del fumetto con un biglietto unico a prezzo scontato. Mi pare un'offerta culturale di assoluta qualità per la nostra città. Trinomio perfetto, Comune e Pordenone assessorato alla cultura, craft e contrasto. Un trinomio perfetto, ognuno con le sue competenze, ognuno con la sua professionalità che portano a termine questo splendido lavoro su Elliot Erwitt. Una mostra che può essere letta veramente con gli occhi dai 0 ai 99 anni, da un bambino con il gusto estetico, da un cultore della materia come grande mostra di un maestro della fotografia e poi da tutti i visitatori nel modo più eterogeneo possibile. Quindi una lettura veramente interessante, scatti ironici, scatti contestualizzati, scatti sempre intelligenti di un grande maestro della fotografia che porta a termine un lavoro che è anche un piccolo trattato sociale e anche del tempo, perché molte di queste foto insomma partono circa dagli anni 50 e arrivano insomma fino a quasi ai giorni nostri. Quindi è un qualcosa anche dal punto di vista storico, cronologico, estremamente interessante e importante. La mostra sarà aperta dal 6 novembre al 10 febbraio 2023, da giovedì a domenica dalle 15 alle 19. Sono previste visite didattiche e numerose iniziative collaterali. Per maggiori informazioni www.comune.pordenone.it